buongiorno ragazzi continuiamo il nostro viaggio attraverso il manierismo e ci soffermiamo su giulio romano allora chi è giulio romano allora è stato un allievo e collaboratore di raffaello tant'è che era stato impiegato nella decorazione dell'ultima delle stanze vaticane quella di costantino è un pittore un decoratore un architetto nasce a roma ma le sue opere migliori si trovano a mantova città dove si reca nel 1524 su invito di federico secondo gonzaga e qui viene nominato oggi potremmo dire architetto sovrintendente alle costruzioni carica che conserva fino alla morta avvenuta nel 1546 che cosa realizza a mantova realizza questo questo edificio si chiama palazzo te oltre ad occuparsi di architettura in realtà realizza ad esempio anche dei degli arazzi a soggetto allegorico mitologico così come aveva già fatto raffaello per papa leone decimo e in occasione del per gli arazzi della cappella sistina quello che vedete palazzo te ed è l'edificio più importante di giulio romano a mantova realizzato tra il 1525 e 1534 ne realizza il progetto ne realizza la costruzione e la decorazione interna anche se è affiancato da aiuti e collaboratori questo palazzo sorgeva un tempo su un'isola chiamata teieto da cui il nome te palazzo te in una zona meridionale di mantova potremmo dire in una zona periferica dove il marchese aveva le stalle dei cavalli che allevava e che erano famose in tutta europa il palazzo aveva principalmente la funzione di luogo di svago luogo di delizie doveva un po ricalcare l'idea di una domus romana per via del cortile interno ma anche proprio perché era immerso in un contesto paesaggistico e naturalistico una villa suburbana è un grande edificio pianta quadrata ad un solo piano e si articola attorno a questo cortile interno a est un giardino delimitato su un lato dalle stalle si conclude con questa grande esedra ad arcate aperta sulla natura circostante il palazzo non ha una facciata che sia uguale ad un'altra ad esempio quella quella sud non venne mai realizzata e l'edificio è coronato da una trabeazione dorica con un fregio a metope e triglifi guardate qua questa è la facciata nord ovest questa è la facciata est è una sorta di loggiato che si affaccia su due grandi vasche piene d'acqua qui non si vedono e si chiamano peschiere questa è la facciata nord e parte della facciata ovest e qui vedete un particolare interessante individuato nel cortile d'onore ed è quell'elemento che ci consente di capire perché giulio romano l'abbiamo inserito all'interno della corrente manierista allora giulio romano studia con con raffaello un collaboratore uno degli aiutanti quindi alle spalle una grande tradizione classica dall'altro però se ne allontana se ne allontana perché si prende quella famosa licenza dalla regola e lo fa in che modo allora inventandosi questi elementi particolari allora uno è il triglifo che scivola vedete sembra cadere cascare un elemento che noi non conosciamo in realtà nell'arte nell'arte greca e poi il motivo del timpano spezzato e lo vedete qui lo si vede ancora meglio qui vediamo un altro di questi tre glifi alternati alle metope che sembrano scivolare in questa in questa modalità quindi l'idea che ci comunica questo elemento è una sensazione di precarietà l'instabilità in un'architettura così massiccia e potente qui si vede ancora come l'intera superficie sia lavorata bugnato il bugnato è una lavorazione muraria costituita da blocchi di pietra sovrapposti lavorate in modo tale che queste pietre sembrano a gettare le tipologie di bugnato possono essere molto differenti guardate qui ad esempio l'idea di un bugnato liscio e di un bugnato invece rustico questo è un po un po l'effetto ma l'aspetto assolutamente interessante è anche il discorso decorativo all'interno del palazzo tè allora questo è l'affresco presente nella nella sala dei giganti nella veduta della volta in particolar modo allora qui in questa stanza è raffigurato l'episodio in cui Zeus punisce i giganti che si erano ribellati e il tema classico della gigantomachia molte volte rappresentato nei rilievi greci secondo la mitologia infatti giganti figli di urano diedero l'assalto all'olimpo e Zeus li colpì con i fulmini facendoli precipitare sprofondare nelle viscere dell'etna cosa fa giulio romano allora riesce a fondere la rappresentazione pittorica con lo spazio quindi con l'architettura cercando di mimetizzare le aperture come le porte le finestre creando un una grande finzione scenografica e teatrale vediamo questo particolare della volta quindi recupera un po l'elemento delle delle nubi che creano un vortice creando una scena fortemente dinamica ed è un particolare molto simile a quello che abbiamo visto nella cupola del duomo di parma con con correggio gli anni sono sono gli stessi quest'altro particolare vi consente di capire lo spazio della stanza non è un ambiente estremamente grande uno spazio quadrangolare però vedete che qui una porta viene mascherata con l'intervento pittorico chi avrà la fortuna o chi c'è stato di entrare in questa in questa stanza ci si sente proprio partecipi della della narrazione dell'evento quindi ci si sente come dire protagonisti osservatori di questi giganti che vengono come dire cacciati dal dall'olimpo e sono costretti come dire a mettersi in salvo tra edifici che crollano ed elementi architettonici che 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 li schiacciano la pavimentazione un tempo era parte integrante dell'intervento decorativo era realizzata con dei ciotoli delle pietre di fiume quindi dava un'idea di di continuità tra le rocce e i massi rappresentati in modo illusorio sulle pareti questa pavimentazione non è più l'originale questo è un altro particolare della decorazione di una delle pareti qui vedete proprio il particolare dei dei giganti schiacciati dal peso di questi elementi architettonici che si che si frantumano questo ancora è un altro particolare qui vedete la la porta quindi la porta d'ingresso la figura di questo gigante che si appoggia ad una pietra collocata proprio al di sopra della porta i lavori della decorazione durano cinque anni dal 1531 al 1536 il tema è tratto dalle metamorfosi di ovidio ed è in realtà anche un'allusione a degli eventi contemporanei sembrerebbe che zeus rappresenti carlo quinto che era tra l'altro venuto in visita a mantova nel 1532 e i giganti invece sono la rappresentazione dei principi italiani che non volevano riconoscere il potere imperiale quindi la grande abilità di giulio romano di essere riuscito a creare una decorazione con la quale cerca di smaterializzare completamente l'architettura della sala a creare un tutt'uno dall'effetto come vi dicevo altamente scenografico e lo fa anche perché ha un precedente a mantova chi è che aveva già applicato l'illusionismo prospettico all'interno di una decorazione pittorica se vi ricordate sicuramente lui mantegna no riprende proprio la camera degli sposi realizzata a palazzo ducale nel castello di san giorgio quindi l'idea di sfondare il soffitto rappresentando un'architettura circolare che fa da fulcro all'intera composizione lo va a pescare proprio da questo riferimento quindi un elemento rivoluzionario che lascia un segno nella città di mantova e che giulio romano dimostra di riprendere e di inserirlo all'interno di un contesto stilistico tipicamente manierista giulio romano si occupava ancora di per i gonzaga di organizzare feste progettare scenografie teatrali disegnare su pelletti le argenterie diventerà responsabile della manutenzione del decoro della città e viene affidata anche questa bellissima decorazione della sala dei cavalli un ambiente destinato ai ricevimenti alle cerimonie alle feste dove sullo sfondo di un'intelagliatura architettonica anche qui dipinta vengono ritratti a grandezza naturale i cavalli preferiti dei gonzaga ciascuno con il proprio nome scritto in calce quindi qui giulio romano si occupa dell'impianto ideativo ma poi la realizzazione viene affidata a degli allievi con questo abbiamo finito il manierismo romano il manierismo interito negli altri contesti italiani abbiamo fatto una sorta di carellata non ci sono spostati da firenze roma eccetera ricordatevi che poi gli artisti manieristi italiani arriveranno anche nelle principali corte europee la corte di francia la scuola di fontainebleu così come viene chiamata praga presso la corte di rodolfo secondo arcimboldo questo leggetevelo insomma non ve l'ho inserito nel materiale ma mi sembra abbastanza semplice da da comprendere con la prossima lezione invece ci spostiamo a venezia e affronteremo il discorso del manierismo veneto alla prossima